Meghan Markle indossa un accessorio che in molti riconoscono. Ecco in che occasione l'ha indossato. Presente sempre al fianco di suo marito. Meghan Markle, è vista da molti come la donna cattiva che ha allontanato il principe Ferri dalla sua famiglia. In realtà appare che la decisione di allontanarsi sia stata presa proprio dallo stesso soprattutto dopo che, quando era piccolissimo, ha dovuto assistere alla scomparsa prematura della madre che si era decisamente opposta alla monarchia. Una delle ragioni che Ferri dichiara decisive per la scelta di allontanarsi dalla famiglia riguarda la salute mentale della moglie Meghan. Pare infatti che la donna abbia tentato di levarsi la vita. Affermarla è stato il forte senso di colpa nei confronti di suo marito che, dopo la madre avrebbe non solo perso un'altra donna importante della sua vita ma anche la creatura che portava in grembo. Ecco cosa ha affermato la donna e cosa ha spinto Ferri a decidere di allontanarsi una volta e per sempre dalla famiglia reale britannica. Ferri e Meghan presenti a un importantissimo evento. Lei onora Lady Di. Uno dei motivi principali che stava portando Meghan a compiere questo estremo gesto è stato il fatto che a palazzo erano molto preoccupati sulla pelle del loro primo figlio. Non sono mai stati rivelati i nomi dei reali che si preoccupavano del colore della pelle del piccolo Archie. Ferri ha però lasciato intendere che la regina è estranea alla vicenda. Alcuni pensano che sia stato suo padre Carlo e suo fratello William con il quale si sono raffreddati i rapporti. Ferri ha quindi deciso di andare con sua moglie in California e vivere lontano dall'etichetta reale nonostante spesso si presenti ancora ad alcuni eventi. I duchi di Sussex si sono presentati all'Assemblea della Nazioni Unite. Il nipote della regina ha tenuto un discorso in occasione del Nelson Mandela Day per ricordare la ricca eredità del leader che ancora oggi può aiutare ad affrontare molte sfide dell'intero mondo. La coppia si era già recata in Africa nel 2019 per conoscere la vedova di Mandela Graca Machel. La nipote Zamasuasi Dlamini Mandela e il suo ex compagno di cella Andrew Melangheni. La duchessa che è sempre stata tenuta per mano dal marito ad eccezione del momento del discorso, ha optato per un vestito per nulla appariscente. Meghan ha indossato l'orologio che spesso utilizzava Lady Di Il nipote Zamasuasi Dlamini Mandela e il suo ex compagno di cella Andrew Melangheni. Il nipote Zamasuasi Dlamini Mandela e il suo ex compagno di cella Andrew Melangheni.